buongiorno a tutti da art majord un video questa sera per parlare dell'ultimo capitolo di daniele daniele libro profetico che è in stretta relazione con il libro di apocalisse rivelazione entrambi parlano dei tempi che stiamo vivendo noi ed ecco che dobbiamo quindi fare attenzione alla comprensione che noi abbiamo di questi libri sapendo che noi oggi viviamo gli ultimi giorni un periodo cioè di sette tempi o di sette anni che ci conducono alla fine verso armagedon quindi la distruzione della religione la distruzione del potere politico e poi la distruzione del di satana il diavolo e quindi la fine del sistema di cose in cui viviamo noi sappiamo che siamo nel periodo dei sette tempi perché la bibbia ci divide e chi di voi mi conosce legge rifugiati di pello ormai questo discorso lo sa già la bibbia divide la storia umana in millenni quindi 6.000 anni lasciati all'uomo mille anni invece il governo millenario di gesù cristo e gli governa con gli unti gli eletti di 144.000 di cui si parla in rivelazione 7 rivelazione 14 e di questo governo si parla in apocalisse capitolo 20 quindi nel 1975 finiscono i 6.000 anni i primi 6.000 anni della creazione di adam e quindi ci si sarebbe aspettati di entrare in questo nuovo mondo invece non è successo nulla perché seguono un periodo di 40 anni e uno di sette anni che sono quelli annunciati in matteo 24 34 per quanto riguarda i 40 anni dove gesù parla di questa generazione che avrebbe visto queste cose cioè un tempo di una generazione e nella bibbia 40 anni dato da 40 anni pensiamo alla generazione che è morta nel deserto gli israeliti che dovevano spurgare i loro peccati quindi muovono prima di entrare prima che l'intero popolo possa poi entrare nella terra promessa e poi c'è questo periodo di sette anni quello di luca 21 24 cioè i tempi fissati delle nazioni o calpestamento di gerusalemme che vengono invece preannunciati anche dal sogno di nabucodonosor che daniele interpreta e si tratta di un periodo di tempo di sette anni in cui la bestia selvaggia cioè il potere politico domina sul potere religioso lo stiamo vedendo il fatto che si ritenga l'adorazione come un qualcosa di del tutto secondario che possa essere messo da parte durante il periodo della pandemia da covid da coronavirus quindi devono passare 40 anni più sette anni dal 1975 se provate a fare questo calcolo si arriva al 2015 per quanto riguarda i 40 anni più sette anni si arriva al 2022 e quindi voglio andare a vedere con voi l'ultimo capitolo di daniele che parla proprio di quest'ultimo periodo del periodo che stiamo vivendo noi perché 2022 noi siamo ottobre 2020 ci mancano due anni e quindi noi siamo a dicembre 2020 siamo inoltrati già nel nel sesto anno l'anno che deve vedere l'attacco di gog di magog contro il popolo di dio e quindi dobbiamo dobbiamo capire no che cosa sta succedendo qua è interessante quello che dice daniele capitolo 12 leggiamo gli ultimi versetti qua dice io daniele vidi ed ecco altri due stavano in piedi uno su una sponda del fiume l'altro sull'altra sponda del fiume quindi lui vede due persone quindi uno disse all'uomo vestito di lino che era un angelo che stava con un piede su una sponda del fiume e un piede sull'altra sponda dice l'uomo vestito di lino che era il di sopra delle acque del fiume fra quanto sarà la fine delle cose meravigliose quindi ci sono queste due persone che chiedono all'angelo che poi a gesù di dirgli cosa succederà alla fine la stessa esatta domanda che gli fanno gli apostoli a gesù in matteo capitolo 24 luca capitolo 21 marco capitolo 13 che sono tre capitoli che bisogna conoscere bisogna andarsi a leggere perché portano notizie sul periodo che stiamo vivendo noi e gli chiedono che cosa succederà e allora qua dice no fra qua gli chiedono fra quanto sarà la fine delle cose meravigliose e udivo l'uomo vestito di lino che era lì sopra delle acque del fiume mentre alzava la mano destra la mano sinistra ai cieli e giurava per colui che vive a tempo indefinito sarà per un tempo fissato tempi fissati e una metà quindi ce n'è ancora per un tempo due tempi e un mezzo tempo cioè tre tempi e mezzo sono tre anni e mezzo quasi stava facendo riferimento quindi alla all'ultima parte della settimana come mai perché le due persone sono i due testimoni di rivelazione 11 che a metà settimana vengono uccisi a rappresentare simbolicamente la morte di gesù che nella profezia delle 70 settimane di daniele muore a metà settimana no a metà settimana c'è l'interruzione del sacrificio continuo quindi questi due che sono morti gli dicono ma quanto dobbiamo aspettare ok morti ma simbolicamente noi chi chi ha letto i miei articoli sa che questa morte vuol dire lo stracizzare lo stracismo sociale un po quello che dovranno subire chi non fa il vaccino no lo stracismo sociale isolamento arresti domiciliari cose di questo genere e quindi dovrete aspettare tre anni e mezzo dalla metà della settimana che vuol dire quindi primavera del 2019 tre anni e mezzo e poi gli dice e appena si sarà finito di frantumare la potenza del popolo santo tutte queste cose perverranno alla fine quindi qua è ancora una conferma del fatto che si tratta del calpestamento di gerusalemme cioè di babilonia quindi il popolo santo e babilonia il popolo santo e la falsa religione cioè dio ha cresciuto il suo popolo all'interno della falsa religione è un po come la parabola del del grano delle zizanie no il grano cresce in mezzo alle zizanie solo alla fine le zizanie vengono eliminate e poi si dice quindi appena sarà finito di frantumare la potenza del popolo tutte queste cose verranno alla loro fine ma i due testimoni non sono ancora soddisfatti anzi qua di in daniele vengono date altre informazioni infatti dice ora in quanto me qua è daniele che parla udi ma non potei comprendere e in effetti fino ad oggi chi è che ha compreso queste cose così che dissi o mio signore quale sarà la parte finale di queste cose ok quindi daniele dice va bene sono tre anni e mezzo ma cosa succede proprio alla fine alla fine ed egli proseguì dicendo va daniele gesù parla l'angelo gli diceva daniele perché le parole sono rese segrete e sigillate sino al tempo della fine infatti chi le aveva capite fino ad oggi nessuno qua nei secoli ma quante persone hanno voluto interpretare queste cose nessuno ci ha mai capito niente molti si purificheranno e si imbianchieranno e saranno raffinati perché dovranno passare la grande tribolazione quindi c'è un raffinamento no la grande tribolazione nel periodo di tempo che stiamo vivendo adesso cioè gli ultimi tre anni e mezzo i malvagi di certo agiranno malvagiamente nessun malvagio comprenderà e vediamo no quante persone non stanno capendo niente di quello che succede ma quelli che hanno per spicacia comprenderanno e dal tempo in cui è stato soppresso il sacrificio continuo ed è stata posta la cosa disgustante che causa desolazione quindi la fine del sacrificio e il potere politico la cosa disgustante che causa desolazione dice da quel momento lì quindi dal 2019 da quando cioè i due testimoni vengono uccisi quindi gli ultimi tre anni e mezzo dice però qua ci saranno 1290 giorni ecco qua questo è un numero che non ricorre mai perché sempre si parla di 1260 giorni sia in daniele che in rivelazione 1260 giorni per il calendario ebraico per gli ebrei che consideravano un anno di 360 giorni sono tre anni e mezzo spaccati quindi qua sta dicendo che da metà settimana per vedere proprio la parte finale così da chiesto daniele dovevano aspettare 1290 giorni quindi 30 giorni in più quindi noi dall'ottobre 2022 andiamo a finire al novembre 2022 e poi dice felice colui che rimane in attesa che arriva a 1335 giorni e quindi questi sono altri 45 giorni quindi arriviamo alla fine del 2022 non mi stupirei il solstizio o cose del genere comunque c'è quindi un periodo di un mese e mezzo che inizia un mese dopo la fine dei sette tempi quindi ci sono c'è la generazione di 40 anni poi iniziano i sette tempi finali di cui gli ultimi tre anni e mezzo sono la grande tribolazione alla fine dei tre anni e mezzo e nell'ultimo anno è stata distrutta babilonia quindi sarà mi è radissuta la falsa religione e chi conosce il proposito del nuovo ordine mondiale sa che questo è fissato questo è il loro obiettivo quindi durante il 2022 distruggeranno la falsa religione distruggeranno gog di magog cioè i governi nazionali perché loro vogliono un governo unico ma poi un mese e mezzo per la durata di un mese e mezzo che inizia novembre quindi un mese dopo la fine di questi tre anni e mezzo noi abbiamo un periodo di il periodo di distruzione finale se voi andate in apocalisse 20 vedete vedrete la successione degli eventi dell'ultimo anno quindi noi abbiamo distruzione di babilonia ed è tutto giudizio divino anche se non tutto è fatto da dio è tutto giudizio divino che muove le fila affinché ciò che lui odia venga distrutto quindi si distrugge gerusalemme si distruggono i governi nazionali poi interviene gesù quindi novembre 2022 interviene gesù il suo esercito composto da unti dagli eletti e nell'arco di un mese e mezzo distruggono bestia selvaggia quindi il potere politico che domina il mondo già ora no che è quello che costruisce il il nuovo ordine mondiale e falso profeta cioè la bestia due corna cioè quell'entità politica che va a distruggere così falsamente va a distruggere babilonia e gog di magoghe che è rappresentato quindi dal novello ciro no colui che si presenta oggigiorno come il salvatore quindi l'anticristo che io suppongo sia la parte di trump ma questo non andiamo proprio nel a cercare il pelo perché potrei benissimo sbagliare ma quello che voglio dire è che a fine 2022 il discorso si chiude e daniele quindi ci dà una maggiore comprensione su alcuni fatti alcuni aspetti che vanno compresi nel caso in cui aveste una comprensione migliore me lo dite me lo fate sapere ciao a tutti